andate oltre la forma per capire le idee cerchio firenze 77 attraverso robertosetti scuola del cerchio firenze 77 essere e divenire a cura di vb 5 giugno 1975 dali voi siete un certo numero qua presenti ma è come se io fossi solo con ciascuno di voi perché anche se nel momento in cui ci manifestiamo esistono delle difficoltà nella comunicazione fra voi e noi più di quanto bene siano al di là di queste riunioni noi siamo uniti in modo che voi neppure immaginate e dire che non lo avvertite perché avvertite unicamente questa voce della quale mi servo e ci serviamo per tentare di farvi capire cose che esulano totalmente dalla realtà nella quale in questo vostro momento siete immersi ora per comprendere accade che dovete afferrare il senso di ciò che vi diciamo e lo diciamo ovviamente servendoci di parole ma non è questa la sola difficoltà occorre rimuovere le resistenze che il nostro dire trova in voi vedete parlo in senso generale naturalmente ciascuno di voi ha delle opinioni delle idee e quando ascolta qualcosa raffronta sempre ciò che ode con ciò che già conosce questa è la prima difficoltà molte volte anche quando i concetti sono simili una parola intesa in un senso lievemente diverso impedisce una comprensione completa perciò come non mai vi incitiamo figli a non fermarvi sulla lettera di ciò che vi diciamo ma a comprendere lo spirito ad andare oltre la forma per capire le idee comprendo quanto questo possa risultare difficile e non solo per voi che già siete abituati a ciò che diciamo ma anche per coloro che sono stati fino a poco tempo fa lontani da questi concetti che hanno vissuto la loro vita come generalmente la vivono tutti gli uomini senza soffermarsi su certi problemi ecco perché è importante prima di rifiutare comprendere capire quello che vogliamo dire il concetto molti invece odono le prime parole i primi insegnamenti li confrontano con ciò che conoscono e dicono non può essere rifiuto ma io voglio dirvi non dovete rifiutare prima di rifiutare intendo dire dovete capire veramente quello che viene detto e per capirlo è necessario dimenticare anche momentaneamente quello che sapete ascoltare come se veniste a contatto per la prima volta di concetti come se per la prima volta udiste qualcuno parlare